ciao bentornati nel corso di video scrittura con il programma finale anche oggi vi presento il prossimo tutorial impareremo a creare manualmente le battute d'aspetto ossia quelle battute che raccolgono varie misure di pausa col numero sopra approfitto per ricordarvi di iscrivervi al mio canale sempre cliccando anche sulla campanella dimenticavo una novità sigla in questo nuovo tutorial noi impariamo a creare le battute d'aspetto le battute d'aspetto sono queste come vedete una battuta con il numero di battute d'aspetto questa operazione praticamente si svolge automaticamente quando noi estraiamo le parti le parti staccate cioè finale praticamente dove vede delle battute vuote di aspetto le raggruppa automaticamente ma se ci troviamo con una partitura per un unico strumento e quindi non dobbiamo estrarre le parti staccate allora dobbiamo fare questa operazione manualmente voi trovate una situazione simile 234 battute quante nessuno e dobbiamo raggrupparle appunto in un'unica battuta con il numero sopra allora basterà con strumento misure o selezione è indifferente selezionare le battute d'aspetto e molto velocemente col tasto destro qui c'è la voce già battute d'aspetto e poi facciamo crea oppure in ogni caso dal menu modifica battute d'aspetto crea è la stessa cosa creiamo ed ecco qui immediatamente si è creata la battuta d'aspetto con il numero sopra bisogna dire però solo una cosa vi voglio avvertire che questa operazione ha successo se le battute d'aspetto sono delle battute che hanno delle pause quelle praticamente predefinite cioè quelle che voi trovate all'inizio della vostra scrittura quindi non sono pause reali perché attenzione se noi creiamo una pausa reale cioè mettiamo esattamente una pausa che dura l'intera battuta la creazione delle battute d'aspetto non avrà successo e quindi questa è una cosa fondamentale da ricordare e c'è anche un'altra cosa da dire cioè se noi ci troviamo con una sola battuta d'aspetto e vogliamo mettere il numero comunque uno cosa che difficilmente succede perché si presume che una battuta si possa contare facilmente insomma però ecco se dobbiamo copiare un manoscritto dove si presenta questa situazione dobbiamo però prima fare un'operazione cioè dobbiamo andare prima al menu documento poi andiamo opzioni del documento qui c'è battute d'aspetto le opzioni per questa operazione e voi trovate scritto così inizia la numerazione da due ecco qui dobbiamo cambiare cancellare due e mettere uno perché se no non me la crea la battuta d'aspetto l'unica battuta d'aspetto poi ok e quindi vediamo se funziona selezioniamo tasto destro battuta d'aspetto crea ed ecco che ha funzionato tutto e quindi ci vediamo al prossimo tutorial speriamo presto ciao